Dietro ogni grande donna c'è stato un banco. Anche dietro ogni grande uomo c'è stato un banco. Questo piccolo passo è partito da un banco. E anche questo passo enorme è iniziato in un banco. Qui sono tutti partiti da un banco. Eccolo, il banco. E se resterà vuoto, sarà un vuoto nel futuro di tutti noi. È un'emergenza. Aiuta WeWorld a riportare bambine e bambini a scuola. Dona il tuo 5x1000.